Un grande coro, un coro popolare fatto da bambini dai 6 fino ai 99 anni, creature dai 6 fino ai 99 anni, che insieme canteremo questo Va Pensiero in onore del giorno. Va Pensiero dedicato alla Festa della Repubblica, questo l'evento promosso dalla Fondazione Guido d'Arezzo. Un grande coro che ha messo assieme molte realtà del territorio per dar vita a questo suggestivo flashmob sullo sfondo di Piazza Grande. Il risultato è di un seme messo dal lavoro di Recicanto, che è questo laboratorio sperimentale che anche sotto la pandemia ha svolto un'azione, è durata 10 lezioni, svolta in due mesi, è organizzato da Viscantus e Nomad con una serie di altri partner, fra cui l'Unicop Firenze, l'Istituto 4 Novembre e tra gli altri ha dato un grandissimo apporto al Liceo Petrarca, che canteranno insieme all'Ansamble Viscantus, insieme ai cantori del Borgo, insieme al gruppo Recicanto dei 6 99, che ha svolto il laboratorio Recicanto. Grazie.